Davide è arrivato il taxi Ciao 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 ragazzi Buongiorno Ci mettiamo davvero, ma davvero Che stai facendo? Io odio i ficcanaso Io volevo solo dare un'occhiata Ma davvero? Mi hai preso per scemo? No, tranquillo, ero curioso Ho visto quella roba arrivata da Sud America e allora... Un po' curta Secondo me se la dici più lentamente... E infatti stavamo dicendo, vedendo che...